siamo a san savino nelle marche e oggi vi porto con me a vivere una giornata da viticoltore sarà anche un mio amico di una vita andrea che io chiamerò j che ci accompagnerà a conoscere la cantina dove lavora e tra l'altro oggi inizia il periodo della vendemmia quindi sarà ancora più interessante la vendemmia è il momento più importante dell'anno per il viticoltore è il momento in cui l'uva coltivata con cura durante tutto l'anno viene raccolta e portata in cantina per iniziare il processo di vinificazione che trasformerà il mosto in vino il lavoro del viticoltore è un lavoro duro e impegnativo richiede competenze tecniche esperienza ma soprattutto passione questi uomini devono conoscere a fondo le caratteristiche del terreno del clima e delle varietà di uva che coltivano deve inoltre saper scegliere il momento giusto per la vendemmia e deve assicurarsi che le uve siano raccolte in buone condizioni oggi facciamo lo chardonnay sono due vitini diversi che però abbiamo sette tavole che vengono vinificate insieme verranno persone ragazzi a fare la vendemmia normalmente pochi perché fondamentalmente la macchina raccoglie tutto l'aere come pubblicità li fanno raccolta a mano a noi non cambia perché tu raccogli e porti subito in gabbina e roba di 10 minuti non è che devi fare viaggi di un'ora o due che l'uva si rovina chi ha vigneti grandi grandi magari lì potrebbe arriva l'anzone la cantina c'è offrita capito che deve fare col trattore fino alla cantina si può rovinare perde un po' ho capito si può rovinare perché poi passano in bombe, fermentazioni si si qua c'avete il vigneto da una parte e la cantina subito a fianco quindi è super veloce la vendemmia è da sempre un momento di festa e di condivisione è un momento in cui la famiglia e gli amici si riuniscono per aiutare il viticoltore nella raccolta delle uve è un rito antico che si ripete ogni anno infatti proprio nella nostra zona ma anche in tutta Italia si celebra questo avvenimento con le tradizionali feste dell'uva noi ne abbiamo una molto importante per la spinigola e dopo in mezz'ora nel giugno c'è me nel giugno c'è me eccoci tranquillo andiamo con Simone tra le vigne tu quant'anni hai Simu? 20 no, da quando è che lavori qua? inizia a 3 anni no, caspita, è un giovanissimo in sostanza c'è tu sei diplomato? diplomato in agraria in agraria ok inizia subito, quindi? ok subito, appena finita la scuola la propria è arrivata qua prima ha fatto la terminanza seconda lavoro poi mi si è pernato questo qui allo Chardonnay lo prenderemo prima perché è più sposto al sole quindi si fa prima ah ripulisce tutto praticamente quello che non prendi, prendi tutto esatto moro da un'acqua sta pure in battiti, capito? si, in battiti se non si lascia l'uva significa che in battiti si è troppo in battiti tu invece che vedi che tutte le foglie sono tutte bagnate significa che in battiti si è troppo alti e sta spattando la scuola e la solforosa è meglio mettere la... cioè i salpiti quando è mosto quando ti vende la vino già la smaltiti quindi si scrive e metti il vino e poi quella è tutta la cosa che stai andando quando bevi il vino cerchi di fare un prodotto più di qualità se c'è troppa concorrenza quando non puoi ti devi identificare sì questo tipo di mercato vado al pubblico e fa più sulla qualità qual è il periodo dove si vende più vino? quando ci stanno le feste più o meno tipo Natale Natale le cene di regalo il periodo estivo prima in Tempia quello si vende un po' di più perché ci sono turisti i tedeschi quelli che ritornero cioè che vengono qua in vacanza una volta che le uve sono state raccolte devono essere trasportate in cantina il più rapidamente possibile per evitare che si deteriorino dove vi piazzo? qua? ok vai ci siamo adesso torniamo su a portare le uve io faccio un video su un trattore io il trattore guardo sempre perché i trattori sono le persone che fanno la vendita però non trovo mai la faccia a tutta eh lo so arranga il suo trattore arranga, arranga ma qua è costa non pensavo che fuori nel vino ci fosse problema di grillo grillo, lucertone, lucertone non basta però sono proteine vegetali la prima fase è la diraspatura e la pigiatura che consiste nel separare gli acini d'uva dai raspi e dalla buccia la diraspatura può essere manuale o meccanica la pigiatura un tempo era eseguita con i piedi ma al giorno d'oggi si lavora principalmente con macchinari pneumatici o meccanici in questo misuriamo il grado di zuccheri vediamo il mosto e a seconda di dove si ferma tramite una moltiplicatore dopo andremo a scoprire anche il grado di alcol adesso abbiamo 24 gradi bubble eh super giù sarà 13 gradi e mezzo, 14 la macchina con quelle micro vibrazioni che fa fa staccare l'acino dal racco anche questo il pedicello si lignifica con quella vibrazione si stacca infine c'è la terza fase ovvero la svinatura che consiste nel separare il vino dalle vinacce cioè da residui soliti di buccia, semi e raspi adesso il mosto verrà filtrato può essere attraverso questo tubo grazie a questa pompa qui blu e il tubo rosso arriva fino a questo gigantesco serbatoio che piano piano si riempirà anche se quest'anno ho detto Jack è un po' magra la situazione i serbatoi sono refrigerati e questo è il frigo che ripenta tutto l'impianto della cantina solo che la refrigerazione viene fatta manualmente nel senso che regolando i tubi di apertura e chiusura quindi tu controlli la temperatura in base a quello che ti serve aumenti di meno di sui non è automatico adesso Andrea vuole farmi provare il mosto però hai detto che ha un effetto importante un po' spurgos non mi convince tanto non sono convintissimo è buono molto dolce molto zuccherino però è buono dov'è il bagno? andando so dov'è ok in questo momento tutto il ciclo che avete visto si sta ripetendo un'altra volta e nell'attesa facciamo un giro qui in quest'altra zona dove sono altri vigneti molto molto carini con questo spettacolo che è la natura in fondo dove si vede addirittura il mare il mare adriatico che io conosco molto bene perché ci ho fatto l'ultimo video nel peschereccio e sono stato tutto il giorno lì in mezzo e secondo me questo genere di lavori è molto faticoso assolutamente però allo stesso tempo non so perché ma molto appagante stare a contatto con la natura respirare aria stare all'aperto è proprio bello cioè te ne accorgi quando stai tanto tempo chiuso magari davanti a uno schermo come me e poi quelle volte che esci fuori ti rendi conto che è la vita dato che sono qui voglio assaggiare la prima uva o anche cosiddetta vino solido vediamo un po' un chicchiettino mamma mia quanto è buona è zuccherina al punto giusto sto godendo buonissima pure chicchi sono buoni invece che tipologia di vini fate qui? evidentemente sono vitigni utottono della zona abbiamo passelina passelina spumantizzata poi abbiamo un pecorino uno chardonnay sauvignon questo è un vitigno internazionale e poi abbiamo questo che è pascal che in francese vuol dire pasqualino il nome del boss e è un pecorino una selezione che facciamo noi che parte prevalentemente dal territorio cioè prendiamo una porzione di terra che ci piace per l'esposizione per il tipo di terra e lo facciamo in bottiglia solo di questo facciamo solo 2.000 bottiglie è una cosa limitata esclusiva esclusiva poi abbiamo i tre rossi che sono il rosso vicino superiore che è tipico della zona di offita e un montepulciano sangiovese che fa 6 mesi barrique poi dindy che sarebbe il nome del padre è tutto montepulciano e fa metodo tradizionale e poi abbiamo la riserva silzio che sono i nomi dei figli del boss silvia e alessio fa un anno di barrique e 3 mesi affinamento di bottiglia e questo è uno fine rosso sarebbe montepulciano cabernet questi sono bottiglie questi facciamo prevalentemente rosso lecchiamento viene fatto all'interno ma quando tu le svuoti le devi pulire bene perché sennò è inutile visto che il vino perde i tartrati che si fanno appiccicare sulla parete e fanno uno strato se non lo pulisci il vino il ciclo dopo non va mai a contatto con il legno e ah perché il trucco è il contatto con il legno il trucco è il contatto con il legno che danno o una potenza al vino a seconda di quanto tempo tu ce lo fai stare capito e dal mix ok noi facciamo due tipi di mix che sarebbe o sangiovese ma c'è la base sarebbe montepulciano 85% di montepulciano poi dopo o l'offida rosso come ti stavo a dire ecco il cabernet è un po' più duro invece il rosso vicino superiore ecco il sangiovese che risulta un po' più morbido qua c'è una però di tu stanno qua dicevi è un barrique no? questa è una barrique vengono inserite tramite delle pombe all'interno e devono essere sempre bene e queste rilasciano più tannini sono meglio delle botti normali cioè per tre volte sono state messe nel giro di quanto tempo? di tre anni quindi una volta l'anno? una volta l'anno quindi un anno sta in in insomma in tre azione si dipende perché dipende quando ci vuoi fare sta capito? oppure fa sei mesi se il legno vuoi meno duro o fai un anno se lo vuoi ma più duro c'è gente che lo fa proprio per due o tre anni ce lo lascia dopo andremo a fare un'operazione che puliamo il mosto tramite un processo che è la flottazione dove tramite aggiunta di gelatina bendonite e azoto lo sporco va verso l'alto poi con una bomba noi prendiamo lo mettiamo in un altro serbatorio e dividiamo il pulito dallo sporco lì ci sono due metodi o aggiungi lieviti o se no aspetti che parta la fermentazione una volta partito devi controllare la temperatura perché se no il mosto va a temperature alte tregua 30-35 gradi e quella è male perché la fermentazione dura poco e non ti estrai tutti quei profumi tutte quelle sensazioni aromatiche che ti potrebbero estrarre invece con una fermentazione più lenta in media si sta sui 16 gradi la fermentazione brucia sempre i zuccheri ma in modo più lentamente nell'arco di 15 giorni il mosto diventa vivo 100% è una porzione di terra che prende tanto sole io sono 11 anni che sto qua prima del diploma sono venuto tramite la scuola e poi dopo loro mi hanno tenuto vabbè mi piace ho sempre studiato quello e sono rimasto cioè non mi vogliono fandar via tu alla fine il corso da sommelier l'hai fatto? no il corso da sommelier non l'ho fatto mi piacerebbe farlo e il tempo che manca dimmi un po' all'inizio cosa ti ha spinto all'inizio di questa carriera? allora sono stato buttato sugli studi verso l'agra area e poi lì ho scelto la scuola mia che aveva il settore enologico e ho scelto di continuare quello perché non mi ispirava altro cosa ti dà soddisfazione? quando le persone che piace il prodotto che bevono e dicono è buono e contributi se andò a casa addormisci hai sempre capito a contatto con la natura invece ci stai in una fabbrica è diverso quando ti ritrovi il vino già in una bottiglia dietro c'è un mondo c'è lavoro fatica persone ti dico l'azienda è piccola noi facciamo una selezione cioè non è che vendiamo a tutti essendo poco il vino non è che lo posso andare a dare gente che poi non me lo paga devo stare di dietro e poi in questi 11 anni c'è avuto mai qualche momento difficile come in tutte le cose c'è sempre il momento difficile però si supera parlando nelle prime vendemmie si lavorava fino alle 3 di notte 4 di notte dalla mattina presto fino alle 3 di notte e poi la mattina si riattaccava capito e poi ci siamo rinnovati ci siamo andati avanti e invece adesso è una cosa molto più tranquilla i macchinari qua ce la vedete quando ti ho iniziato? prima il caricamento delle presse era manuale tramite sempre dei tubi ma alla fine c'era un uncino buttava tutto dentro e dovevi stare lì a guardare quando si riempiva era stressante era abbastanza stressante poteva succedere di tutto in qualsiasi momento e non eri attento poi io ero da solo qui poi sotto vendemmia lo stress c'è perché se comincia a vedere che sta andando cioè la fermentazione si è fermata e per tanto tempo lo tende ad andare in aceto e se non fai qualcosa potrebbe diventare aceto vedi sempre il controllo dei zuccheri che abbiamo fatto prima capito? fai più volte durante tutte le fasi? faccio due volte al giorno una mattina o una sera per vedere quando cammina il vino capito? al ristorante fai l'assaggio del vino ti stappa il vino te lo versa e tu senti lo provi se sta di tappo quando ti stappano la prima cosa è sende il tappo e poi sende il vino il vino esce bene viene imbottigliato tutto a posto però ci metto un tappo sbagliato quello te lo rovina rovina tutto qua adesso andiamo al punto della cantina dove vendiamo il vino escuso lì vengono poi in ufficio fa un po' tutto eccoci qua bel calendario che avete pure qua devo dire che bella veste poi ho scambiato due chiacchiere con il nonno Ndindi lui insieme alla moglie sono i fondatori di questa cantina Nd una domanda ma come avete portato i serbatoi di cemento qua dentro a mano faccio vedere io e voi questa grossa quella a 200 quintali quella che abbiamo messo prima da favolare come li porti qua dentro questi qua ci stanno i pattini di gomma che tu li metti su sopra ma queste le siamo scaricate le siamo nette la gru da scolani le siamo nette quelle che fatti gli luoporti allora non ci passava per due centimetri allora io sono un ingegnere che c'è una casa perché tu guarda ruppa fino a paruferre lo scarpello è stata la città in centro il muro si si clipattono perché io e voi tu e voi ma io mi sono cazzo a piacetere dritto clipattono da sotto e poi la regga questo qui è il mostro perché tramite la legge dei casi comunicanti ti segna il livello voglio vedere il livello da sopra vediamo è ora di pranzo e la nonna per rifacillarci ci aveva preparato dei piatti deliziosi il portavec in box è addirittura roteabile buona è vero 10% di orvi grazie lo gioco va bene poi c'è la fermentazione alcolica che è il processo in cui gli zuccheri presenti nell'uva vengono trasformati in alcol etilico e anidride carbonica dei lieviti la fermentazione alcolica può durare da pochi giorni a diverse settimane a seconda della varietà di uva e del tipo di vino che si desidera ottenere ci aggiungiamo gelatina pentonite e azoto e dividiamo la parte solida la parte legge questa è la pentonite fondamentalmente è terra questa invece è la gelatina che si ricava dagli animali non è buonissima poi abbiamo la quarta fase che è la chiarifica e la filtrazione che serve proprio a rimuovere le impurità presenti nel vino prima aggiungiamo la pentonite la permette che se io non avessi aggiunto prima dei genzini che poi dice non stavo a funzionare questa è una prova in piccolo che ti mostra cosa succede quindi già si vede che sta salendo tolgo a su lì che lo rimane in posto quanto tempo lo fa stare? per ogni metro devi aspettare due ore due ore e mezza noi di solito lo facciamo o il giorno dopo aspettando il giorno dopo non c'è possibilità che ricada ok rimani lì stabile ok oggi non ci sei ma qui il vino procede ci stiamo facendo un rimontaggio che aiuta il mosto a ossigenarsi e i lieviti a proliferare vedi qui c'è il vino esce dalla base della botte una bomba che lo butta in alto e lo riputta sopra adesso ci accertiamo se il mosto è diventato vino i gradi in pappo sono zero perché ha fondato tutto il misuratore i zuccheri sono diventati nulli adesso il mosto è diventato vino infine abbiamo la quinta e ultima fase che è l'affinamento e la maturazione che consiste nel far riposare il vino in botti di legno o acciaio con periodo di tempo variabile sempre a seconda del tipo di vino la produzione del vino è un processo complesso e affascinante che richiede tempo esperienza e passione è un processo che trasforma un frutto semplice come l'uva in una bevanda sofisticata e ricca di sapori il vino è un prodotto che ha una storia millenaria e che ha accompagnato l'uomo in tutte le sue fasi evolutive è un prodotto che è stato celebrato da poeti, artisti e letterati di ogni epoca il viticoltore quindi è un artista che crea bellezza e che ci regala momenti di piacere è stato un vero onore per me vivere una giornata insieme a loro e scoprire così tante curiosità del mestiere e che ci regala